Quanto all'obesità, l'uso di droghe o alcol, uno stile di vita all'insegna degli eccessi può influenzare la vita nel suo aspetto più intimo, la sfera sessuale. Sono solo alcuni degli aspetti indagati a legge nel corso del decimo convegno di medicina nazionale presieduto dal professor Carlo Foresta, ordinario di endocrinologia all'Università di Padova. Al centro del focus le problematiche causate proprio da uno stile di vita sbagliato che portano all'insorgenza per entrambi i sessi di patologie tumorali e per i giovani ad avere problemi di natura erettile o ancora peggio ad essere positivi al papilloma virus ovvero l'infezione da HPV all'origine di diverse forme tumorali. Una positività che aumenta in maniera esponenziale arrivando a determinare patologie gravi a livello endocrino-sessuale è persino l'infertilità fondamentale e approcciare nel modo giusto il problema dal punto di vista fisiopatologico bandendo i consigli dell'amico farmacista o peggio ancora il ricorso ad internet. Noi oggi diciamo ai medici, state attenti ai consigli che date, alle alimentazioni, a come si comporta. Non basta prescrivere una compressa di fronte ad un paziente con disfunzione erettile e sentirsi appagati per aver risolto il sintomo funzionale. Questo è completamente errato.